Dopo otto domeniche di astinenza torna a vincere la briga che supera la Curotti, la Juve Domo per 4 a 1. Il primo sussulto del match al quinto, lancio dalle retrovie di Bianchi per Rogola che anticipa il Sufi senza però inquadrare la porta. La reazione della Juve Domo con Ciana, conclusione dal limite che esce di poco alla destra di Capetta. Sul ribaltamento di fronte, tu vedi dal limite, palla sulla traversa. Al quattordicesimo si sblocca la situazione, cross dalla sinistra di Sardo, testa di Rogola ed il briga si porta in vantaggio. Juve Domo subito vicino al pareggio, Renolfi alla disperata salva su Ucceschi. Al ventunesimo, Tuveri prende la mira e questa volta non sbaglia, tiro imprendibile per Azufi e il 2-0 ospite è cosa fatta. Briga vicino all'attrice, da Balossini allo scatenato Tuveri, tiro strozzato controllato da Azufi. Alla mezz'ora, Ugei dal limite, Azufi alza sopra la traversa. Dominano gli ospiti che colpiscono con Rogola la seconda traversa di giornata. Sulla ribattuta poi il solito Azufi salva su Bianchi. Dopo tanto briga una perla di Ceschi e la Juve Domo torna in partita. Partita al trentasettesimo, Renolfi dal limite, Azufi in volo salva il risultato. Nella ripresa, dopo un minuto, da Renolfi a Rogola che di testa manda alto il copione, è sempre il solito. Da Sardo a Rogola colpo di testa ancora fuori misura. La Juve Domo ci prova con Ferrera, conclusione che termina sul fondo. All'undicesimo arriva il gol del 3-1 ed il merito è tutto di Rogola. Al ventiduesimo, contatto in aria tra Zani e Renolfi. Il signore Vallelunga di Collegno non ha dubbi e indica il dischietto. Dagli undici metri, Rogola trasforma. La partita praticamente finisce qua. Al Curotti vince il briga per 4-1.